43. UMANIZZANDOSI Attraverso Corrado Piancastelli, Entità A La storia appare così come un aggrovigliato e spesso informe avvicendarsi degli infiniti tentativi dello spirito che, umanizzandosi, si avvicina alla materia per carpirne la struttura ideale di origine universale e divina. 45. Essa storia è in definitiva determinata anche nella sua successione di culture dalla successione nel tempo degli infiniti voti di tipo browniano che esprimono ai rispettivi livelli individuali, perché ogni spirito ha la sua storia, la grandiosa esperienza della materialità della terra da parte degli spiriti, 46. Attraverso tutte le leggi e tutti i fenomeni, anche indirettamente sociali, che riguardano la materia stessa. 46. Questo è il vero problema della conoscenza per l'uomo e la sua soluzione avviene nell'infinito del tempo e dello spazio per ognuno di noi, spiriti alla costante, perenne ricerca della verità, dell'essenza, nel loro rinfrangersi negli infiniti aspetti del relativo. 46. Questo è il vero problema della conoscenza per l'uomo e la sua soluzione. 47. Questo è il vero problema della conoscenza per l'uomo e la sua soluzione. 48. Questo è il vero problema della conoscenza per l'uomo e la sua soluzione.